Venditalia 2016, Milano. Siamo nel padiglione della commerciale adriatica e parliamo con Federica Gobbi, direttore commerciale dell'azienda. Buongiorno. Dottoressa innanzitutto ci faccio una presentazione breve ma essenziale della società. La commerciale adriatica è nata tantissimi anni fa, nel 1999. Siamo sul mercato ormai da tanti anni. Abbiamo la nostra fabbrica di proprietà in Cina. Ci sono soci, dipendenti, c'è una nostra socia. Noi produciamo le macchine direttamente in Cina, stampaggio e assemblaggio. La maggior parte dei nostri componenti sono componenti italiani, pompe ulca, termostati campini corel. Le membrane utilizziamo quelle della DuPont e le stampiamo noi direttamente. In Cina abbiamo tantissimi dipendenti, la fabbrica è grande. Collaboriamo sempre insieme per ottenere un prodotto nuovo, un prodotto di qualità su cui noi puntiamo tantissimo. In azienda siamo una ventina di dipendenti tra commerciale, marketing, acquisti, spedizioni. L'azienda negli anni è cresciuta tantissimo e ci troviamo oggi a un certo posizionamento. Abbiamo tantissimi clienti, sia per vending, per OCS, tanti piccoli nuovi negozi che sono nati. Noi siamo sicuri della qualità delle nostre macchine, abbiamo un centro assistenza con tutta la ricambistica, un magazzino verticale enorme e forniamo anche corsi gratuiti per persone che acquistano le macchine, sia teorici che pratici con i nostri ragazzi. Quindi noi siamo molto contenti del personale che abbiamo rinnovato negli anni, abbiamo raggiunto un certo equilibrio. Adesso volevo magari approfondire meglio l'offerta prodotti e servizi per il settore vending e OCS, cioè il settore della ristorazione, caffè e altre bevande negli uffici, nei posti di lavoro. E se ci sono quindi anche delle novità? Allora, da un punto di vista del vending, noi ogni anno presentiamo quasi tutti gli anni una novità e apportiamo di continuo miglioria alle nostre macchine. Allora abbiamo macchine ultracompatte, quindi per la casa, piccole come può essere la nostra nano, meccanica, come può essere la nostra FAP, elettronica, per le capsule da 36, oppure abbiamo per le cialde in carta filtro e anche le compatibili in espresso, macchine che lavorano le compatibili in espresso anche per uffici, per la casa. Poi ci spostiamo sullo OCS invece dove proponiamo una macchina a due gruppi, capsule da 36, i due gruppi possono lavorare insieme o indipendenti uno dall'altro, cappucinatore lancia vapore. Quindi noi copriamo un po' tutti i mercati e poi ci siamo innovati negli anni. Noi ascoltiamo anche sempre molto, anche sulle macchine esistenti, facciamo sempre dei restyling, ascoltando i commenti un po' dei clienti, le difettosità e i pregi e su quello noi lavoriamo. Ecco, voi per le macchine del caffè come marchio è Panaffè? Panaffè, il nostro marchio per le macchine del caffè, sì esatto. Però so che c'è anche il marchio Panais. Sì, noi ci occupiamo ormai da tantissimi anni anche di Panais, che è il settore trattamento acqua e componentistica, sempre ad uso domestico. Quindi andiamo da impianti ad osmosi inversa, a gasatori, water dispenser e tutta la componentistica che serve per questi impianti. Filtri, cartucce, filtri alcalini, rubinetteria 1, 2, 3, 5 vie, pompe booster. Quindi abbiamo un'ampia gamma di prodotti ed è un mercato dove va forte. Noi da quel punto di vista lì siamo grossisti, importatori. Quindi il mercato dell'acqua è un mercato sempre in forte crescita e che si correla sempre con anche quello del caffè perché sempre più persone tendono ad acquistare filtri per il vending che noi disponiamo nella nostra gamma ovviamente. Ok, allora complimenti per questa espansione vivace della società e auguri di buon lavoro. Grazie mille. C'è una novità però che non le abbiamo detto su una nuova macchina che abbiamo introdotto. Questa è MySpace, è una macchina appunto sempre per Capsula 36 che funziona alla novità con una tecnologia NFC di approssimità. C'è un'app da scaricare, avvicinandosi al telefono è possibile farsi il caffè da soli, è possibile che il venditore sia sempre in contatto col proprio cliente e ricaricandolo direttamente dall'app. Quindi si può sempre vedere i caffè erogati e i caffè disponibili. Quindi noi ci siamo sempre più evoluti verso la tecnologia e quello che richiede il mercato. Perfetto. Grazie.